Il primo capitolo del Vangelo secondo Matteo leggiamo che Maria essendo promessa di sposa di Giuseppe prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo che era giusto e non voleva ripudiarla decise di licenziarla in segreto. Sono le famose angustie di San Giuseppe perché forse un dubbio davanti a quella gravidanza inaspettata circa una colpa di Maria o comunque un'accettazione sofferta della volontà di Dio dopo una strazzante lotta interiore che conduce a una vita con Maria ma confinato nel ruolo di custode. Una specie di inferno che è stato descritto in versi anche troppo tragici dal poeta Reiner Maria Rilke. Allora il travaglio di Giuseppe non si può negare ma è stato veramente per questo? Rispondiamo apertamente di no. Il dubbio con la tradizione cattolica è da escludere perché se convinto della colpevolezza di Maria la giustizia di Giuseppe gli avrebbe imposto di non nascondere quello che sarebbe stato un adulterio ma era impossibile. Maria risplendeva troppo buona, troppo innocente, troppo santa agli occhi di Giuseppe. E allora qual è il problema? Giuseppe è proprio il giusto che si chiede come posso tenere ancora per me Maria dopo quello che Dio ha realizzato in lei. Questa è l'esgesi di padre Tarciso Stramare. Come posso dare il mio nome al bambino quando nascerà riconoscendolo come mio mentre invece opera dello Spirito Santo? Come può l'uomo usare di intromettersi nelle cose di Dio? Giuseppe si sente indegno, inadeguato e perciò si ritira in modo tale che pubblicamente Maria sia preservata dalla condanna, alla lapidazione e al tempo stesso si svolga in lei questo progetto misterioso di Dio. Chissà quanto ci ha pregato San Giuseppe per fare la cosa giusta ma il Signore è venuto in suo aiuto. Proprio mentre si risolveva questo ecco l'angelo in sogno che gli dice Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere con te Maria tua sposa perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Oh che gioia! Che sollievo! Che tripudio! L'angelo gli svela la sua vocazione sublime non deve allontanarsi la sposa continua a essere sua solo deve accogliere il bambino concepito virginalmente per opera dello Spirito Santo dargli il nome di Gesù ed educarlo come un figlio destinato a una grandissima missione secondo le parole dell'angelo egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati è la vocazione più grande che si possa immaginare sposo dell'immacolata padre di Gesù in una relazione che lo colloca il più vicino possibile a Cristo ecco allora che Giuseppe interiormente preparato e guidato dallo Spirito Santo riconosce in Maria la sua anima gemella la sua sposa possiamo vedere tutta la convenienza per cui il Dio che forma in modo più perfetto ogni amore umano ha concesso al cuore di Giuseppe una sensibilità del tutto particolare agli impulsi dello Spirito Santo che ha rigenerato il suo amore di uomo come afferma la Redemptoris Custos di Giovanni Paolo II ed è così che con Maria vivendo con una vergine con una sposa che rimane vergine con lui sposo vergine si realizza un matrimonio singolare ma che è veramente tale e anzi esprime una bellezza meravigliosa realizzando proprio agli albori della redenzione la dimensione originale ed esemplare della creazione Giuseppe e Maria sono stati e rimangono per l'umanità il rinnovato sacramento dell'amore originario che è puro e disinteressato dono di sé cerchiamo di vedere più da vicino tutto questo quanto sia vero questo matrimonio e quanto sia bello allora nella Sacra Scrittura Giuseppe è chiamato sposo di Maria e Maria sposa di Giuseppe e di nessun altro e questo costantemente ed è per questo motivo che Giuseppe è considerato da tutti il padre di Gesù quindi attenzione la verità del matrimonio tra Giuseppe e Maria è necessaria per affermare la paternità legale di Giuseppe nei confronti di Gesù da cui dipende la messianicità davidica di Gesù tra i testimoni della tradizione si distingue in modo particolare Sant'Agostino nel difendere e illustrare la virginità di San Giuseppe il suo vero matrimonio con Maria e la singolare paternità verso Gesù afferma Giuseppe è sposo di Maria sua coniuge non per l'amplesso carnale ma per l'affetto non per l'unione dei corpi ma ciò che vale di più per la comunione degli animi come grande rappresentante della scolastica medievale scendiamo San Tommaso anche per lui si tratta di un matrimonio vero e perfetto tra Giuseppe e Maria quanto all'essenza e alla prima perfezione non però quanto all'uso carnale ma è davvero un'imperfezione questa? no perché accogliendo il verbo incarnato come frutto donato da Dio per il loro amore la perfezione del loro matrimonio diventa pienissima senza uguali lo dice bene Leone XIII nella Quamquam Pluries il loro matrimonio fu consumato con Gesù Maria e Giuseppe si unirono con Gesù Maria e Giuseppe non pensarono ad altro che a Gesù amore più profondo non c'è mai stato né ci sarà mai più su questa terra mediante il sacrificio totale di sé questo è San Giovanni Paolo II nella Redentore Scustos Giuseppe esprime il suo generoso amore verso la Madre di Dio facendole dono sponsale di sé così come Maria sia donata a Giuseppe è questo il nucleo fondamentale dell'alleanza matrimoniale a partire dal consenso che fa le nozze realizzare la comunione delle persone nel dono in questo caso spirituale di tutta la propria persona e allora ecco che mentre la coppia di Adamo ed Eva era stata sorgente del male che ha inondato il mondo la coppia Giuseppe e Maria costituisce il vertice dal quale la santità si espande su tutta la terra possiamo dire che Cristo Redentore ha iniziato l'opera della salvezza con questa unione virginale e santa nella quale si è manifestata la sua onnipotente volontà di purificare e santificare la famiglia questo santuario dell'amore questa culla della vita da questo punto di vista sarebbe importante un recupero per tutta la chiesa nel calendario della festa dello sposalizio di San Giuseppe e di Maria che non può essere dissolta semplicemente nella festa della Sacra Famiglia che ha un contenuto più esteso ma che dipende dal matrimonio come il fiume dalla sorgente e andando verso la fine ancora una domanda inerente a questo tema ma è proprio vero che San Giuseppe era così anziano quasi decrepito come talvolta appare nelle opere d'arte ah deliramente apocriforum direbbe San Girolamo gli scritti apocrifi quelli che la chiesa non ha riconosciuto canonici credibili storici degni di fede hanno inventato in difesa della verginità di Maria una soluzione radicale quella di ridurre il matrimonio tra Giuseppe e Maria a una semplice custodia e attribuire a San Giuseppe un'età quasi centenaria certo gli apocrifi possono anche dare dei particolari interessanti pensiamo al protovangelo di Giacomo per esempio ma quando lo pseudo Matteo lo pseudo Tommaso ci dicono che Giuseppe sarebbe stato sposato prima di Maria e avrebbe avuto sei figli poi vedovo e avrebbe sposato a Maria a 89 anni vivendo con lei fino a 111 anni beh capite che questo non ha senso più che un marito era un padre per Maria l'avrebbe sposata per salvare le apparenze sociali ma questo non è degno né di Giuseppe perché la castità viene dalla virtù dall'aderenza alla volontà di Dio e non da un'impotenza sopraggiunta a motivo dell'età né per Maria e Gesù perché non sono tutelati l'onore della madre e del figlio aspetto questo di importanza primaria in ogni matrimonio è una soluzione grottesca del tutto falsa qual è la vera storia San Giuseppe ha dovuto affrontare tutte le responsabilità di una famiglia e come poteva farlo se era un vecchio bisognoso di cure e di attenzioni come avrebbe potuto portare la Saccharfamilia attraverso il deserto con tutti i pericoli con tutto lo sforzo che presupponevano 20 giorni di cammino per arrivare in Egitto ci voleva forza energia vigore per difendere nei pericoli per aiutare le necessità e arrivati in Egitto lavorare molto per mantenere una famiglia povera in una permanenza in una terra dove non avevano parenti e i santi padri infatti parlano di un San Giuseppe giovane non anziano né vedo su questo c'è il giudizio autorevole di San Giovanni Paolo II il quale in una sua catechesi insegna è il caso di supporre che Giuseppe non fosse un uomo anziano ma che la sua perfezione interiore frutto della grazia lo portasse a vivere con affetto virginale la relazione esponsale con Maria è bello concludere allora con le parole del Vescovo di Santa Vita Fulton Sheen Maria e Giuseppe portarono alle loro nozze non soltanto il loro voto di virginità ma anche due cuori pieni di un grande amore più grande di qualsiasi altro amore che cuore umano abbia mai potuto contenere nessuna coppia di coniugi si è mai amata così tanto caro papà tu sei caro papà tu puoi caro papà tu vedi caro papà provvedi glorioso San Giuseppe prega per noi grazie a tutti grazie a tutti